Cari Tarantini, attenzione, non fatevi infinocchiare dalle chiacchiere che vi sta raccontando Rinaldo Melucci e che vi stanno raccontando anche i suoi seguaci circa l'ordinanza di chiusura dell'aria caldo dell'Exilva. Il sindaco Melucci non ha emesso alcuna ordinanza di chiusura con riferimento ai picchi di benzene che sono stati rilevati e denunciati da Arpa. Il sindaco Melucci ha soltanto detto, ha preso ancora una volta tempo e ha detto che se entro 30 giorni l'Exilva e il Vainais e Acciaierie d'Italia non individueranno gli impianti responsabili di questi picchi e se entro 60 giorni non si porrà fine a questo trend, a questa crescita esponenziale di emissioni di benzene, solo in quel caso, entro i 60 giorni, il sindaco emetterà ordinanza di spegnimento. Quindi, se l'italiano non è un'opinione, è molto ma molto chiaro il discorso. Melucci ha preso ancora una volta tempo, è come il papà che è andato dal figliolo e ha detto figlio mio, se tu entro 30 giorni non ti metterai a norma, io ti caccerò da casa. Ma poi, entro 30, entro 60 giorni, il figlio scodinzola, i picchi di benzene si abbassano e come dire, tutto è bene, quel che finisce bene, tutto finisce a taralluce e vino. Aprite gli occhi, non credete a quello che hanno scritto i consiglieri Antonio Lenti e Luca Contrario. Il sindaco non ha emesso alcuna ordinanza di chiusura, Lenti, Contrario, ma voi capite la lingua italiana o no? Perché se la capite e siete onesti intellettualmente, invece voi mentite sapendo di mentire, il sindaco non ha emesso alcuna ordinanza, ha detto che se entro 60 giorni il fenomeno non finirà, io mi vedrò costretto a spegnere. Diverso sarebbe se il sindaco in questo momento avesse avuto le palle di fare ora, 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 non tra 60 giorni, l'ordinanza di spegnimento. Quello significa davvero spegnere, ma non prendere tempo, perché in questi entro i 60 giorni, immaginate quanto altro benzene si sarà sprigionato, quante altre patologie noi tarantini avremo contratto. Questa è la realtà. Entro 60 giorni, entro 60 giorni, l'ex Silva potrà continuare a fare ancora i cazzi propri. Questo significa, questo è il succo. Quindi non fatevi finocchiare dai falsi annunci, dagli annunci ad effetto. Boom! Ordinanza di spegnimento. Quale cazzo di ordinanza di spegnimento hai fatto, Melucci? Quale cazzo di ordinanza di spegnimento hai fatto? Non hai fatto nessuna ordinanza di spegnimento. L'ordinanza di spegnimento è quando ora la spegni, non entro 60 giorni, così come hai fatto l'altra volta. Questa è l'ennesima pantomima, è l'ennesima sceneggiata, scenetta, per far vedere ai tarantini che tu difendi l'ambiente. Se veramente tu volevi difendere l'ambiente, in questo momento ordinavi lo spegnimento, ora, non tra 60 giorni. Scusate se vi ripeto, ma i cittadini devono capire che una cosa spegnerà adesso, ora, è una cosa entro 60 giorni. Perché come al solito, Melucci, come si dice, abbaia, abbaia, abbaia e non morde. Tu ora dovevi mordere, dovevi azzannare e dovevi chiudere l'aria a caldo, non tra 60 giorni. Tu abbaia soltanto, Melucci. Bla, 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 questo fai. E lo devono capire i cittadini tarantini. E non fatevi fuorviare dalla corte magica di Melucci, la quale dice che Melucci ha ordinato lo spegnimento. Sappiate leggere l'italiano, sappiatelo leggere. Grazie.